Bene, cari ragazzi e cari ragazze di Quinta N, bene si fa per dire, ho speso gli ultimi 40 minuti della mia vita per registrare una video-lezione sulla Relatività Generale, o meglio una breve e semplificata introduzione alla Relatività Generale, che serve sia per la classe come estensione della Relatività Restritta, sia per indicazione per gli studenti, delle studentesse che stanno portando avanti un elaborato per esame di stato conclusivo relativo appunto ai temi della Relatività. Tra l'altro mi stava venendo anche particolarmente bene, ma c'è stato un blackout qui a Udine Sud e niente, non avendo un gruppo di continuità ho perso tutto, ora stasera sono già alle 11, non riesco a rimettermi mentalmente a rifare la stessa lezione, per cui vi lascio questa lezione più breve sull'equazione differenziale vista stamattina in classe, che vi ho lasciato come esercizio per caso e vorrà dire che domani sera rifarò, sperando che non vada di nuovo via la luce, la video-lezione sulla Relatività Generale. Quindi stamattina in classe abbiamo parlato di equazioni differenziali, vi ho fatto una brevissima introduzione, vi ho detto che quest'anno non c'è tempo per sviluppare in pieno l'argomento, ma è un argomento molto interessante, molto utile e anche molto ricco di risultati e di tecniche. Comunque abbiamo visto le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. e oltre ad aver visto alcuni esempi in classe vi avevo lasciato un esercizio, la seguente equazione differenziale derivata prima di x uguale f di x meno f quadro di x, che adesso andremo a risolvere, quindi velocemente cercheremo di trovare la soluzione, che è una soluzione interessante, vi ho detto stamattina, troverete una soluzione particolarmente famosa in questo periodo. Alcune note prima di partire con la soluzione, ci siamo già accorti in classe stamattina che questa equazione ha due soluzioni banali, f di x uguale a 0 ed f di x uguale a 1, cioè due funzioni costanti che quindi hanno derivata nulla e che in particolare anche il termine di destra, se la funzione è costantemente pari a 0 o costantemente pari a 1, rendono a 0 il termine di destra. Quindi queste sono due soluzioni banali. La seconda cosa che non abbiamo visto stamattina, notate che se f di x è piccolo, dove con piccolo bisogna intendere come al solito cosa significa, ma per valori piccoli di f di x il termine al quadrato è trascurabile e l'equazione derivata prima può essere approssimata a f primo di x uguale a f di x, mettiamo circa. E questa è l'equazione che dà come soluzione abbiamo visto stamattina la funzione esponenziale, k e alla x, che è una funzione crescente, quindi per f piccoli questa ricorda molto da vicino l'equazione per la crescita esponenziale, solo che se è una crescita esponenziale dopo un po' f di x non sarà più piccola e anzi f di x a quel punto si avvicina, quindi questo termine cresce, anche questo termine se siamo a valori minori di 1, questo cresce più rapidamente e questa si avvicina alla soluzione stabile. quindi non può essere una crescita esponenziale, la soluzione è completa. Però parte quando f di x ha un valore piccolo, quindi vicino a 0, questa funzione effettivamente, cioè questa equazione differenziale ha come soluzione in partenza una crescita di tipo esponenziale. Proviamo a risolverla con la tecnica della separazione di variabili. Quindi se vi ricordate la tecnica è un po', io ve l'ho presentata in maniera molto artigianale, vi ho detto che si possono fare le cose in modo estremamente rigoroso, noi le facciamo un po' ad urbe conditas, sapendo che però il modo in cui le facciamo noi è coperto da una teoria più rigorosa che mi garantisce che quello che sto facendo, anche se formalmente non corretto, porta un risultato corretto. Quindi usando la notazione di Leibniz riscriviamo la derivata come df su dx uguale a f meno f quadro. Trascuriamo il fatto di specificare che questa è una funzione di x, lo sappiamo. Il passaggio successivo non è del tutto lecito, è un punto appunto che vi dicevo non è rigoroso, ma dividiamo per f meno f quadro e quindi faccio qualcosa del genere, spero che nessun matematico, nessuna matematica mi stia guardando in questo momento. Questa è una cosa che non si può fare, ma se siete abbastanza rapidi mettete l'integrale, ecco quello che otteniamo è corretto. Quindi ho ottenuto questo risultato dividendo per f meno f quadro, questo si può fare e portando questo dx sopra a destra, questo non si può fare perché dx non è un denominatore, questa non è una frazione. Però a tutti gli effetti se poi alla fine mettete il signore integrale questa cosa è possibile farla, ha un senso, quindi usiamo un escamotage e otteniamo un risultato comunque corretto. Ora il termine di destra è banalmente x più c, dove c è una costante di integrazione, il termine di sinistra è un integrale di equazione fratta, di i o fa, scusate, in funzione fratta. Ok? Allora facciamo così, scriviamo 1 fratto f meno f quadro, so che questo lo posso scrivere come a fratto 1 meno f più b fratto f, facendo il minimo comune multiplo, questo diventa 1 meno f che moltiplica f e questo fa af più b meno bf. Ora vogliamo che questo numeratore sia uguale a 1, quindi l'unico modo è b uguale a 1 e a uguale a 1. Ok? Quindi da questa equazione otteniamo l'integrale di 1 su f, anzi facciamo, beh sì, l'integrale di 1 su f in df più l'integrale di 1 fratto 1 meno f in df uguale a x più c. Questi sono due integrali immediati, il primo è il logaritmo, sarebbe del modulo di f, facciamo conto, immaginiamo che f sia positiva. Ok? Aggiungiamo questa condizione in modo tale da non doverci procurare qui del valore assoluto, quindi otteniamo logaritmo di f. Questo integrale qua sarebbe il logaritmo di 1 meno f ma col meno davanti, perché se chiamo 1 meno f e t, faccio il cambio di variabile, verrebbe il logaritmo di questo argomento per la derivata di 1 meno f che è meno 1, quindi viene meno il logaritmo di 1 meno f uguale a x più c. Qui al rigore di logica dovrei mettere le costanti di integrazione ma le posso assorbire in c, quindi quando risolviamo l'integrale vi ricordate basta che al fine ci sia una costante di integrazione che assorbe tutte le costanti di tutti gli integrali presenti. Ricordandoci le proprietà dei logaritmi qui ottengo logaritmo di f fratto 1 meno f uguale a x più c, prendiamo l'esponenziale, otteniamo f fratto 1 meno f uguale a e alla c più x. Ma questo lo posso scrivere come e alla c per e alla x e alla c è una costante, la chiamiamo k per e alla x. A questo punto facciamo il minimo comune multiplo, otteniamo f uguale k e alla x meno f k e alla x, portiamo a sinistra e raccogliamo f che moltiplica 1 più k e alla x uguale a k e alla x e fine. Otteniamo f, rimettiamo in fondo la dipendenza da x, k e alla x fratto 1 più k e alla x. Yuppie, questa è la soluzione della nostra equazione. Perché yuppie? Questa è una funzione interessante, l'abbiamo anche incontrata in un compito in classe, se vi ricordate quando ancora facevamo compiti in classe, è la cosiddetta funzione logistica. Intanto notate che se k è positivo questa è positiva e k è positivo perché è e alla c, quindi k maggiore di 0. Notate quindi che, cos'è che volevo dire, vediamo un attimo, sì, questa è positiva e notate che è minore di 1 perché il denominatore è uguale al numeratore più 1. Quindi questa funzione essenzialmente, se io dovessi fare il grafico, sta sotto la retta di ordinata 1. In x uguale a 0, quindi f di 0 è uguale a k fratto 1 più k che è minore di 1, quindi passa per un punto minore di 1. E poi, se guardate, asintoticamente, se dovessi fare il limite per x che tende a più infinito, di k è alla x fratto 1 più k è alla x, se dovessi fare appunto il limite, questo tende a 1. Ok? Perfetto. Di conseguenza la funzione avrà un assintoto orizzontale. Si può dimostrare che questa funzione essenzialmente è una funzione sempre crescente, è una funzione sempre crescente, ha un flesso a un certo punto, qui in mezzo, e quindi ha una concavità rivolta verso l'alto che poi diventa rivolta verso il basso. Lascio a voi la possibilità, ma lo avete fatto in un compito in classe, ripeto, lo studio di questa funzione, che è essenzialmente un caso particolare della cosiddetta funzione logistica. Ok? Bene, questo è più o meno quanto. Notate che quando x è piccola, quindi questo termine è vicino essenzialmente a k, ecco insomma qui non è proprio banalissimo verificare che questa funzione ha un andamento esponenziale quando x piccola, perché dipende dal valore di k in realtà. Ok? Diciamo che se k è piuttosto piccolo, questo termine può essere considerato trascurabile rispetto a 1 e quindi la funzione inizialmente parte come se fosse un esponenziale. Ok? Notate anche, torniamo un attimo alla funzione di partenza. come effettivamente vedete che la derivata prima, man mano che f si avvicina all'assintoto 1, la derivata prima si avvicina a 0. Ok? Quindi questa funzione ha appunto una derivata che diventa sempre più vicina a 0 e quindi la funzione si appiattisce. Ok? E ha tutta una serie di altre proprietà interessanti che potete studiare per conto vostro. Va bene, quindi questo brevissimo video in sostituzione 12 minuti dei 40 minuti che ho perso a causa del black down. Pazienza, pazienza. Lo farò domani e domattina faremo una lezione particolare per cui lo riservo a domani sera. Va bene? Per ora è tutto, spero che come al solito stiate tutti e tutte bene. Se avete dubbi, problemi o difficoltà mi scrivete, mi contattate come al solito. Per ora vi auguro una buonanotte sperando che non ci siano ulteriori blackout. Arrivederci.